E' la quinta campagna Zaini che ci è stata richiesta da alcuni comuni perché io credo che comunque quello che da noi è scontato là non lo è, anche una semplice penna che per noi è una banalità, la ha importanza e quindi ormai già da anni in sinergia con alcune associazioni, in modo particolare con un sogno per il Benenne presieduta dal dottor Giuseppe Paladino, abbiamo iniziato a raccogliere questi zaini per poi inviarli nella Repubblica del Benenne che chiaramente rappresentiamo a Napoli. Io credo che l'istituzione è alla base di tutto, se veramente questi popoli vogliamo dare un contributo affinché questi popoli possano comunque liberarsi da questo gioco in cui sono costretti in un certo senso a vivere, io credo soltanto con l'istituzione, donare l'istituzione, donare la possibilità a questi giovani di prepararsi e quindi di poter cambiare quelle che sono le sorti del proprio paese, perché io credo che comunque è assurdo e una vergogna che alla vigilia del terzo millennio ci siano bambini che percorrono 20 km per andare a scuola e addirittura li percorrono pure certe volte con delle busse portando quei pochi libri e quelle poche penne che gli vengono date, quindi io mi auguro che comunque le cose possano migliorare, io credo, crediamo in questi progetti come Consolato, noi appunto siamo della politica del fare, noi costruiamo ponti e non valire. Giovanni del Sud